musica 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 bene a tutti ragazzi benvenuti in questo video qua siamo nell'episodio numero si di antfire quattro ct ciao ragazzi ciao oggi abbiamo un sacco di cose da fare non avete neanche idea allora prima faccio questo mi serve allora faccio l'arco ah ok c'è già un bel polini e uno dei challenge ok arco fatto sei sicuro? si l'ho fatto in l'arco ora stava anche fai un vetro facciamo un vetro e facciamo i vetri e li mettiamo qua così la veduta come alberi vabbè fastile intanto abbiamo fatto un altro vetro fatto obiettivo finito eh già corti su cosa si mettevano i funghi scusami nella terra nella terra non me la fa mettere nella terra no aspetta che la pianto qua ah ecco ragazzi bisogna disboscare anche tutta questa zona appunto è per quello che ho fatto nel scorso episodio lascia ah ecco hai te tutto il ferro sì dai un po' di ferro cosa ah vado di sopra allora uno un altro challenge era di fare il secchio d'acqua facciamo due in questo caso beh sì ovvio a parte che quanto ferro abbiamo proprio cioè no no abbiamo abbastanza tanto ok qua dunque metto il vetro sì poi un altro era fai attrezzi quindi facciamo due spade sì sì e poi un piccone di ferro io intanto che già guardi intanto che te fai i tuoi porci comodi dammi anche l'altro secchiello aspetta perchè anche l'altro non lo so ahahah allora a caso random secchio ah vado a prendere l'acqua cosa succede faccio due picconi di ferro o solo uno? ehm fai uno uno e basta ok uno che sennò c'è troppo spreco di materiale però due spade si si è appunto quello si è sicuro te lo te l'ho passata ah aspetta devo fare una cosa fai anche tu un asce così facciamo più velocemente sì sì adesso spero volevo fare una cosa oh oh abbiamo un ospite già guardi abbiamo un ospite ospite no no mettilo lì no anzi lascia entra porco mai porco di un maiale scusa no no vieni qua sto scappando qua ok già guardi porco bastardo vieni porco porco già guardi lasciali in pace ecco l'hai fatto scappare già guardi o la o la cosa ecco fermo fermo vieni qua maiale qui 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 ce l'hai qui ahahahah non vi caga vieni 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 qua ottimo stai lì ha 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 ho intrappolato allora 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 qua ho fatto questa cosa poi anche tu un asce così mi aiuti a sfasciare quelle cose di merda ah va bene intanto qua lascio ah ce l'ho un ascio mi dai due di ferro eeeh cerca nella cesta ah l'hai messa nella cesta? si si ah ci sono avanzati 2 proprio si ma c'è anche nella fornace quindi ah ok allora siamo a posto fai un po' di torce erox fammi un po' di torce si si ho capito sto spulciando hai fatto... ok oh mio dio pioggia ecco se fosse così è carina come cosa che perlomeno non dà fastidio ok io vado nel tetto devo disboscare queste puttane mi sa che me ne serviranno altre 2 eeeh intanto butto questa roba qui ok arrivo cazzo ma è ma puttana eh ma puttana ok sto disboscando tutto qua sopra io davvero la velocità della si... della... di questa trancia... strancia cose non so come le... seals basta fammi un accendino basta non ce la faccio più un accendino? si no sei te che hai piantato tutte quelle merde di alberi vieni qua sopra eh dovevamo non abbiamo neanche carbone guarda che fai che casino fai che casino vieni qua sopra dammi una mano che mano oh cristo può diventare la nostra seconda casa volendo si vabbè noi stiamo morendo di fame qua quello dice facciamo una seconda casa si c'è crisi c'è crisi ma che cazzo boh sembro baggato ma tua madre è baggata nel letto di nuovo mi fa ricordare brutte cose no no è arrivato il supporto da moi e l'ha sbaggato è arrivato jeb col computerino portatile slash this bug mammirox allora quanti cavolo di pezzi di legna ci sono alberi everywhere everywhere dopo questa basta alberi ne abbiamo abbastanza eh già questo qua questo coso no al massimo li piantiamo un chilometri più lontano un chilometro un chilometro più lontano su lato hapsus freudiano qua quanta ce n'è ancora io non vedo più tu quante cose verdi hai guarda addirittura qua è uscito quante cose verdi vedo tutto verde oh mio dio quasi due stock cazzo qua dovrebbe dovrebbe iniziare a svanire adesso vado di sotto a controllare ok ok ce n'è oh mio dio quanto basta io non ho più il lascio io ho ancora qualcosa cosa fai con le foglie come dire che le foglie mi sta mi reggono ok è un po' strano a dire il vero un po' tanto strano perchè ho lasciato il ok andiamo a prendere l'acqua così facciamo anche il 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 next challenge tieni prendi anche il mio secchio tieni ah vado da solo lascia da solo abbandoni qua solo un po' di ragni lì sotto no tu non devi cedere niente per quanto faccio andare sotto non lo so oh mio dio per poco cadevo oh mio dio ok basta quel buco è piccolo devo chiuderlo basta sei over sei over hai della ma cosa stai facendo scusa ho ucciso dei ragni tre ragni ah interessante sento una mucca aspetta che la porto qua hai chiuso quel buco si no si si ah eccola ho trovata ho trovato la mucca e qua c'è anche dell'acqua allora mi chiedo come farà questa mucca a salire c'è l'acqua lì si si c'è l'acqua mi chiedo come farà questa mucca a salire aspetta un'idea vai dai adesso queste foglie devono ottenere la... devono ottenere... una mucca una mucca no 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 ferma mucca spostati mucca spostati cazzo di mucca se va altra acqua io non riesco ok mucca kamir kamir si sta salendo jug sta salendo si si è salita ok mini zombie e mini creeper nel tavolo gigante ok vieni vedo dell'acqua lì oh no ok devo fare pure la str- no 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 non cadere non cadere vieni qui mucca 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 più vicino vieni su 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 mucca oh mio dio già quarta sta lentamente non è un cane che li fischi li fischi mucca basta no 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 sta uscendo il maiale tutte due qua venite provano disinteresse tu dentro vai mucca di merda ok ho imbussato tutti e due dov'è l'acqua oh mio dio dai dov'è finito vero la ah è giù di sotto è molto in alto molto in alto si come può essere molto in alto ah si è vero perchè hai fatto il giro quello dal sotto appunto ora sto risalendo no 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 ecco cosa c'è ho tolto l'acqua no 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 l'hai tolta o l'hai presa ok l'ho preso ah ok deciditi eccolo qua il bastardo che fa stare assieme tutto ho tanti occhi di ragni io ne ho e c'è pure anche nella cesta boh cosa ci facciamo gli occhi di ragni ah non credo che ci stai qua c'è ancora il piccone il ah vero ora possiamo prendere il diamante ah vero vai giù a te a prenderlo dai si si lo prendo ah ok ottimo ok allora qua ho preso due diamanti perchè hai bloccato tutto cosa ah ok cioè si bloccava tutto qualche volta mmm non c'entro niente di logica non c'entro niente o comunque già qua qua abbiamo disboscato tutto davvero e al tuo ritorno ci sarà una bella sorpresa ah grande che non è mia madre peccato devo capire perchè si sperava molto eh non sempre le cose più belle sono sono vabbè hai capito ahahah credo che non trovo la parola giusta eh sì ma non mi fa non mi fa piantare queste merde di scopo che sorpresa che sorpresa che sorpresa e non cresce è un fungo ma non cresce non cresce guarda non cresce a nessuna parte si vabbè stanzi guarda non me lo fa posizionare guarda solo quando sei caverna qua sotto ah si te lo ricordi tappa tappa acqua infinita interessante eh come faccio a far crescere questa merda se che hai messo i semi dentro casa oh ho interessante non lo so non chiedermelo non è una cosa che mi chiede ok allora un altro challenge era di trovare 8 diamanti noi ne abbiamo trovato solo 2 8 sì l'acqua infinita era un altro challenge già fatto su questa su questo bisolo abbiamo fatto tanti challenge si ma non riesco a far crescere questa merda no dove sono le ossa ce le ho io e l'hai fatto come bone meal no non tutti ne ho ancora sei davanti andiamo a prenderci cani andiamo a prenderci cani appunto dammi un po' di ossa tieni tunz 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 dove sono i cani che non mi ricordo in fondo credo in fondo appunto si in fondo tanto oh merda cosa c'è brutti scherzi brutti scherzi brutti scherzi brutti scherzi oh fermo eccolo qua devo attirare anche a me un altro paio di sì ci sono ancora i cani e c'è anche dell'acqua uno è mio te lo dico prendi il cane uno due due 3 no è baggato eh è baggato a me non l'ho preso te l'hai preso te jaguar si l'hai catturato e l'ultimo quanti assiti sono rimasti 0 che palle l'ho preso con 4 no io mi rifiuto categorie come con 4 si con 4 oz cazzo io non l'ho preso avvio peccola vorremmo all'ordine peccola 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 il cane cosacca domanda a casa prima che muore no qua è molto rischioso io penso 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 ok già hai voglia di portarmi un altro ossa dove lo trovo sì non lo so da qualche parte lo trovi no cane proprio davanti ai mezzi si è spawnato eh sono qua con sto cagnolino forever alone vabbè mi serve cazzo tornerò cane tornerò te lo prometto entra bravo bravo hai bisogno di cibo no aspetta no non hai bisogno di cibo restati a me mi serve un maledetto restalissimo cosa c'è ok un altro silence fatto qua c'è un maiale no tanti maiali dove sono quelle cose per attirare eh ce li ho io oppure vai fattele un po' e come non lo so devi coltivare va ok io devo scendo vado a prendere delle ossa che poi boh sento dei maledettissimi spawner dappertutto ma non ne vedo manco uno venite qua oh c'è un enderman c'è un enderman io non ti guardo enderman ti voglio bene entrate l'enderman mi sta stuprando entra bastarda bastarda perchè deve oh creeper perchè lei ha fatto così piccolo questo spazio oh il creeper ha no vieni qua vieni qua vieni qua idiota pezzo di maiale vieni qua pezzo di maiale si problem venite tutti qua dai ora sei intelligente il gente ti ha fatto intelligente dai vieni uffa no ma lol non c'è più stage back fottiti parti ci ho provato ci ho provato però eh a fare il stage back ci hai provato ci ho provato ci ho provato adesso vado a riprendere la mia basta vado a riprendere la mia roba perchè hai messo una porta qua si bagano tutti ecco cosa ne so qui fai il cancellino che non mi ricordo come si fa fai qua va via va via va via no 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 venite qua venite co cosa fa un creeper qua c'è un creeper non si si se l'ho fatta nel culo nel culo ok ho ripreso tutta la mia roba io gioco e poi tutti tu crepa crepa ok altre ossa mor ossa 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 everythings oh mio dio jaguards ho trovato un'altra caverna io si come si fanno quelle le le cosa cazzo ah ciao jaguards sai cos'è il bello anche di questa cosa che è piena zeppa di 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 tutto ci sono creeper da per c'è tutto c'è tutto non lo so come si fanno le le piccole porte eh non lo so prova a cercare su minecraft wiki uffa non ne so ma per pace morite bastardi oh qua c'è un maledetto tissimo maledettissimo farfalla ok ragazzi io dico di concludere qua questo episodio perchè è durato un po' troppo si è stato un episodio un po' boh si hanno fatto troppo troppi challenge abbiamo preso l'acqua cane tu dove vai ok ho fatto acqua diamante eh semi aspetta che altro abbiamo fatto eh abbiamo fatto l'arco eh si i secchi e non so altre cose vabbè pace e eh voi le vedrete perchè sicuramente appunto guarderete dal dalla scritta nell'inizio ecco quelli che mancano e quelli che abbiamo già fatto quindi nell'inizio ci stanno solo i challenge che abbiamo dobbiamo ancora fare oh yes ok ragazzi per questa puntata è tutto dagli adventure brothers un saluto ciao 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 anche dalle zombie ciao